12. Francesco di Salle Francesco di Salle, 1567-1622, vescovo cattolico francese, figlio primogenito del signore di Buassi, nobile di antica famiglia Savoillarda, in Teotimo, Trattato dell'amor di Dio, dice Felice l'anima che nella tranquillità del suo cuore conserva amorosamente il santo sentimento della presenza di Dio. La sua unione con la bontà divina non cesserà mai di crescere, quantunque insensibilmente, e la saturerà tutta della sua infinita suavità. Commento Domanda Che cos'è il santo sentimento della presenza di Dio? Guida è il sentirsi d'essere che nei mistici raggiunge la massima percezione umana. Comunque Che cos'è il santo sentimento della presenza di Dio. La sua unione con la bontà divina. E la sua unione con la bontà divina. Che cos'è il santo sentimento della presenza di Dio. La sua unione con la bontà divina. Grazie a tutti